A Monte San Savino è stata un'apertura in festa quella del Sipario del Teatro Verdi per la presentazione della stagione teatrale 2017-2018. Devo dire che come amministrazione siamo molto orgogliosi di poter anche quest'anno presentare la stagione teatrale al Verdi. Vogliamo a tutti i costi che la cultura sia un elemento di connotazione, di riconoscimento proprio per la nostra comunità perché si deve elevare intellettualmente e ovviamente essere al passo con le grandi città. Nell'ambito della nostra responsabilità sociale d'impresa c'è particolare attenzione a tutti questi temi che riguardano la cultura, il teatro nello specifico. Siamo presenti in tante stagioni teatrali della provincia di Arezzo e non solo, visto che ormai la nostra dimensione è nazionale e per noi nello specifico il teatro è uno strumento particolarmente importante di conoscenza e di sapienza. La stagione ufficiale prenderà avvio sabato 25 novembre. Devo dire che questa stagione c'è una novità che è l'unione con Fondazione Toscana che comunque dà una mano dal punto di vista produttivo e organizzativo a officine della cultura che lavora indefessamente per costruire una stagione in tempi che sono sempre più difficili per il teatro ma non solo. E quindi sono doppiamente contenta quest'anno che si sia riusciti a costruire una bellissima stagione. Sono dieci spettacoli in due sezioni diverse. Io sono presente con uno spettacolo di Laura Sicignano scritto e diretto da Laura Sicignano che è una giovane autrice che ha per protagonista un migrante ma che in realtà appunto sì è una storia anche sull'integrazione ma anche proprio sull'incontro con il diverso. Affiancata con l'ufficiale ci sarà anche la stagione off curata da officine della cultura che avrà inizio sabato 21 ottobre con il match di improvvisazione teatrale.